L'ingegnere Bonaduce Fabrizio, nel Consiglio di Amministrazione vicepresidente dell'ente Porto, lei si occupa anche di seguire i lavori al Porto di Giulianova, delle opere importanti, tanti settori, tanti lavori e soprattutto ci sono anche lavori in cantiere, cioè progetti che stanno per attuarsi. Sì, assolutamente, come diceva lei, all'interno del Consiglio di Amministrazione ci siamo separati un po' i compiti, io ho il compito di seguire, essendo un tecnico, il monitoraggio dei lavori che si stanno realizzando e dei progetti che stiamo proponendo e proporremo. Al momento abbiamo già alle nostre spalle qui, c'è una messa in sicurezza della banchina di Riva che ha avuto un cedimento della sede stradale e la Regione, con il genio civile e opere marittime, sta realizzando appunto la messa in sicurezza e il rinforzo e una cosa analoga verrà fatta sul molo nord. Sempre sul molo nord stiamo realizzando un ripristino del muro paraonde, sostituendo i mattoni ammalorati e soprattutto un cordolo di cemento armato che a causa dell'intemperie si era disgregato. Sempre su tutta l'area portuale stiamo facendo una manutenzione delle torri faro perché è prevista la sostituzione dei fari alogeni con dei nuovi fari a LED. Attualmente stiamo facendo una verifica delle torri perché essendo state installate più di 30 anni fa, prima di procedere alla sostituzione ci stiamo verificando anche che le torri siano in buono stato e quindi non arrechino problemi alla sicurezza. Sempre nel molo nord, quindi lato pesca, verranno realizzate delle tettoie per il ricovero degli operatori, in particolare per coloro che devono rassettare le reti da pesca, saranno delle tettoie lunghe che quindi consentono di coprire tutta la rete svolta, quindi sono sulla cinquantina di metri le tettoie. Diciamo anche i tempi di consegna, quando saranno pronte queste opere, quando saranno realizzate, la fine lavori? Allora, per il muro abbiamo una fine lavori prevista per metà luglio, per il muro paraonde. I lavori di messa in sicurezza del manto stradale avranno termine circa una ventina di giorni, quindi fra una ventina di giorni verrà rimosso il cantiere. Sulle torri faro stiamo aspettando la relazione tecnica di verifica statica. Oltre a quello verranno installati quattro defibrillatori su tutta l'area portuale che riguarda la pesca e verrà realizzata una condotta di acqua salata per la pulizia delle attrezzature da pesca.